Cosentino Uomo lo trovi su Corso Progresso a Catanzaro Marina e a Via San Giovanni Bosco, Soverato. E' l'inizio straordinario! E' l'inizio straordinario! Una buona giornata da 8800tv.it e un buon inizio settimana. Diamo subito inizio alla nostra rassegna stampa e vediamo cosa ha trovato spazio stamane sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. La fondazione non ce la fa più, Catanzaro, l'oncologico, non può reggere l'onere degli attuali posti letto se il contributo è calcolato solo su 35. Ma l'intesa che la salverebbe è legata alle sorti della cardiochirurgia. Un articolo sul Movimento 5 Stelle. I dissidenti scomunicati da Grillo vanno allo scontro. Bersani nel Movimento 5 Stelle i metodi sono lenisti. Confindustria, Squinzi, chiede di non dimenticare i debiti con le imprese. Chiede allo Stato di restituire 48 miliardi di euro. A Ciro Marina, cocaina e marijuana nell'auto, due arresti e poi chiaramente ampio spazio allo sport. Andiamo alla pagina di Catanzaro. Il preannunciato articolo sulla fondazione, il polo oncologico Campanella è sull'orlo del dissesto, non potendo più sostenere il peso degli attuali posti letto. Ma la sua sorte è legata al centrocuore. Fondazione Cardiochirurgia, abbraccio mortale. L'Ateneo, prima di sacrificare i reparti della sanità pubblica, si taglino quelli delle strutture private. Poi una notizia sulla nostra amministrazione comunale. Secondo il capogruppo del PDL, la scelta di Celi, Mancuso e Notarangelo, più che la maggioranza, rafforza la città. Mimmo Tallini apre all'opposizione responsabile. Questo è tutto per quanto riguarda la Gazzetta del Sud. Passiamo al quotidiano che in prima pagina apre chiaramente con la politica ancora ombre di voto di scambio. I magistrati indagano su tre esponenti del centro-sinistra e uno del centro-destra. Reggio, al vaglio del DDA, le elezioni nazionali del 2006 e le regionali del 2010. Poi abbiamo ancora Bersani, ora lavora per un mandato pieno. Il leader del PD tenta la pesca tra i grillini. Alfano, sì, ma un moderato al colle. Poi abbiamo il primo Angelus di Papa Francesco, un po' di misericordia per il mondo più giusto e dopo la messa strette di mano in strada. Quindi abbiamo questo Papa che cambia completamente quelle che sono le normali procedure, diciamo, di incontro con i fedeli. Poi sempre dal quotidiano abbiamo scelto un articolo sul turismo. La proposta è emersa durante un incontro tra albergatori e assessore Cavallaro. Quindi turismo serve un consorzio. Si chiedono maggiori servizi ed eventi culturali capace di attrarre turismo, chiaramente. Questo era tutto per quanto riguarda il quotidiano. Passiamo subito a Calabria Ora, che apre con un grosso articolo sulla politica. E' il grillino che ha disobbidito. Il cosentino Molinari avrebbe votato grasso al Senato. E la base insorge. Lui risponde, niente isterismi. Lavossio, sporcatevi le mani. Poi chiaramente ampio spazio allo sport. Firenze, le voci e i volti anti-indrangheta di Libera. Sapete che c'è stata questa manifestazione contro le mafie a Firenze. Si è dato in compartecipazione con l'Associazione Libera. L'articolo che abbiamo scelto oggi da Calabria Ora, da segnalarvi, è appunto un articolo che riguarda la Chiesa. Vivere la Chiesa e non nella Chiesa. Sono le parole di Monsignor Bertolone dopo il primo Angelus di Papa Francesco. Le sfide ora andranno affrontate con la consapevolezza che vecchie e nuove incrostazioni non devono bloccare il cammino. Ora, bisogna prepararsi a una Chiesa che illumini semplici e dilubbiosi e che riscaldi i cuori e spegni il pane agli affamati di Dio. Questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Vi diamo appartamento a domenica alla stessa ora. Buona giornata. E' l'isciano straordinario! E' l'isciano straordinario! E' l'isciano straordinario!